Ciao, sono Luca Mazzucchelli e oggi voglio provare a rispondere a questa domanda. È veramente possibile non tradire? Il tradimento ripugna la nostra coscienza di puri, ma forse è un'esperienza necessaria alla crescita. Il tradimento è solitamente considerato un marchio infamante, ma esiste anche un tradimento positivo. Pensa al primo e al più famoso dei tradimenti, quello di Adamo ed Eva, che però ha permesso all'uomo di venire al mondo e di costituirsi come soggetto nella storia. Ma anche al di fuori dal mito e all'interno della nostra quotidianità, sono diversi gli esempi di come ribellarci, per certi versi, alla consuetudine, sia un passaggio spesso obbligatorio per differenziarci dagli altri e conquistare una nostra autonomia. In poche parole, per crescere. Aldo Carotenuto, nel suo libro Amare e tradire, dice che il tradimento è una rivolta. Ogni rivoluzione si iscrive nell'orbita del tradimento, è tradimento ogni opera d'arte che rompa un circuito obsoleto della conoscenza, è tradimento ogni nuova scoperta, è tradimento ogni originale movimento intellettuale. Talvolta, in effetti, abbracciare il futuro implica un tradimento del nostro passato. Forse l'esempio più classico di tradimento positivo è proprio quello del figlio che deve, a un certo punto della sua vita, tradire le aspettative e i sogni della famiglia e dei genitori. È mettendo in discussione la strada da loro suggerita per il suo futuro che egli potrà mettere in discussione la realtà e trovare la strada che faccia al suo caso. A ben vedere, in questi casi, o si tradiscono gli altri e le loro aspettative o se stessi e il proprio destino, incastrandosi però in questo modo in una situazione di stallo, un blocco evolutivo dal quale potrebbe essere anche difficile poi poterne uscire. A questo punto forse ti chiederai, ok, ma se uno il tradimento lo subisce, che cosa può guadagnarci? In generale, il tradimento rimanda al tema della separazione. E come è vero che è proprio dalla separazione che rinasce in noi la spinta per la ricerca di una nuova unione, anche il tradimento può farci crescere, spingendoci a cercare nuovi equilibri, magari più funzionali. Per dirla ancora con le parole di Aldo Carotenuto, se il tradimento destabilizza, è perché qualche cosa si ricrei. Sia chiaro, non voglio celebrare la bellezza del tradimento, soltanto però contrastare la tendenza a ridurre a un'unica dimensione un fenomeno che invece è molto complesso e ricco di contraddizioni. Certo, il tema fondamentale è comprendere il significato del tradimento, che sia subito o perpetrato, ascoltarlo per dargli un senso ed elaborarlo. Se si bypassa questa operazione, tutti i margini di crescita scompaiono e anzi si rischia di rinforzarsi nel ruolo di vittima, tutti mi tradiscono, oppure sono un traditore seriale, cosa posso farci? Prendiamo il caso del tradimento all'interno della coppia, dove solitamente chi viene tradito si chiede ossessionato, perché lo ha fatto? Questa domanda, legittima, è parte integrante del processo di elaborazione della perdita, assieme alla riscoperta della propria vulnerabilità, fragilità e al dover vivere il dolore per l'abbandono e la perdita. Percorrere questo viaggio alla ricerca del significato del gesto del tradimento può farci incontrare significati anche molto differenti, a seconda delle specifiche dinamiche della coppia in questione. Talvolta, semplicemente il partner non è più innamorato, oppure ha bisogno di maggiori attenzioni e le richiede in questo modo estremo, alcuni sentono il bisogno di dimostrare la propria autonomia dall'altro, da cui altrimenti si sentono troppo dipendere, altri hanno sete di conferme e quotidiano bisogno di ottenere delle rassicurazioni circa il proprio valore amabilità e la propria amabilità. Altri ancora sono in fuga da una relazione stabile, per cui intrattenere relazioni con più amanti, in fin dei conti, è come non avere nessuna storia. E così via. Ma a prescindere dalla personale risposta che troveremo a questa domanda, è ancora più importante il viaggio attraverso il dolore e la sofferenza cui questi interrogativi ci conducono. Spesso per superare il tradimento occorre infatti affrontarlo, prima vivere l'angoscia e il dolore e dopo metterlo nel passato. Questo viaggio talvolta consente anche di arrivare a perdonare l'altra persona, comprendendo quelle che possono essere le nostre responsabilità e facendo pace con il senso di risarcimento che spesso ci accompagna. Tu cosa ne dici? Ti è mai capitato di tradire o di essere tradito? Come hai superato questo shock? Aspetto i tuoi commenti nello spazio sottostante. Se ti è piaciuto questo video, condividilo con i tuoi amici e, mi raccomando, iscriviti al mio video canale in modo da non perdere le prossime puntate. Ciao! Grazie a tutti!